Per me la musica è tutta la mia vita. Per me è poesia. Dietro la console mi sento la regina del dance floor. Tutti possono essere DJ. Pochi diventano top DJ. E un bravo coach può fare la differenza. Con Tommy V. Cuore, cuore, cuore. Top DJ. Prossimamente su Italia 1.